Sì, andavo dietro l'amico per classissimo, io devo continuare a ripassare una scena, ho bisogno di concentrarlo. Senta signorina, dove devo andare? Su Aurelia. Ah, pazza, non dico è lontano. E io là devo andare, e c'ho pure fretta, ti dispiace di partire? Subito, e c'è fretta. Senta, adesso io sto andando a Tonprovino, sa il collettivo del teatro, quale è ormantico postmoderno, devo presentare una scena, mi potrebbe leggere la parte di lui? Come faccio, signorina, ma io, ma che lei è un'attrice per caso? Sì, e sa, per me questo provino è molto importante, allora me lo legge dove c'è scritto Fernando, quella è la parte sua, io sono Stella. Signorina, ma io come faccio, io sto a guidare, non è possibile, capisci? Amore. Eh, oh, scause, oh, Vistoro, qui dove tu respiri, tutto respira una vita per te. Amore, benzerità e pace, rafferente, anche tu rito vada con te. Poeta. Tu non sai, quel che sia la rugiata del cielo per una sedana, che approda al tuo petto? Ma non può leggere meglio, altrimenti anche io perdo l'intonazione, giusta? Grazie. 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 Grazie.